Dentro e poi in pieno recupero arriva il gol del 3-1 segnato proprio da Del Piero che si libera così. Dentro e poi in pieno recupero arriva il gol del 3-1 segnato proprio da Del Piero che si libera così. Chiude 3-1 e va a festeggiare sotto la curva dove sono assiepati.